Noto tentato duplice omicidio, spara numerosi colpi di pistola per uccidere e fuggere, intrecciato e arrestato. Era pronto a darsi alla fuga l'autore di un tentato duplice omicidio messo in atto il 27 luglio a Pacchino, ma i carabinieri della compagnia di Noto sono stati più veloci di lui. L'uomo che ha esploso numerosi colpi di arma da fuoco con l'intento di uccidere è stato fermato dai militari dell'arma prima che facesse perdere le proprie tracce, forse partendo per l'estero. L'intervento dei militari ha però colto di sorpresa l'indagato, nei cui confronti sono quindi scattate le manette in esecuzione di un provvedimento di fermo per indiziato di delitto emesso a suo carico dalla procura retosea, a seguito del quale il predetto è stato condotto in carcere. Gli inquirenti si concentrano ora sulla possibile presenza di altri complici che possono aver preso direttamente parte all'azione di fuoco oppure cercato di favorire in qualche modo la fuga dell'indiziato. Da ricostruire saranno infine la dinamica esatta dell'evento per accertare eventuali responsabilità autonome in capo alle vittime nonché i motivi che avrebbero condotto al gesto.